Buonasera ragazze, Mango, sono a Gran Roma, iniziamo la prima giornata dei saldi proprio in questo store. Vi lascio ovviamente agli stand e alle immagini. Ciao ragazze, finalmente da Mango, come promesso, video ovviamente richiesta. Saldi da Mango, questa volta sono a Gran Roma, ci sono gli stand sistemati molto bene, nonostante è fine giornata, è fine della giornata appunto del primo giorno dei saldi, devo dire che era veramente tutto ordinatissimo, sono rimasta perché comunque alle sette mi immaginavo il caos. Stand abiti, abiti un po' più lunghi, quindi anche qui c'è una certa organizzazione per colore e per modelli, quindi per prodotto, per capo, tutti abiti, alcuni carini. Devo dire che, certo, questo è un negozio, non solo un po' più piccolo rispetto a quello di Roma Est, che io preferisco, perché il Mango che è a Roma Est è molto più grande rispetto anche a quello di Porte di Roma, quindi diciamo che centro commerciale che vai è il negozio che prediligo, perché o per organizzazione o per grandezza, anche perché trovi più prodotti. Questo era un abito carinissimo, corto, anche da mettere, diciamo, per andare al mare più che altro. Bello il colore e il punto di verde. Comunque, volevo dirvi che, per quanto riguarda Mango, sono riuscita poi a prendere quel trench che tanto volevo, quello fluido, non il colore verde, verde oliva, bensì nel color kaki, che è il classico colore dei trench, quello bello fluido, avevo fatto delle storie serie, riesco a reperire la la metto qui, invece che 80 euro, 35 euro. Quando si dice, fai bene ad aspettare. Comunque, continuiamo la carrellata di trench, non ne ho trovati, però ho visto le giacche qui. Carrellata di abiti, come appunto stavo dicendo, stand meno carichi, quindi sono riuscita anche a gestire meglio, non c'era gente, perché erano le sette e mezza, più che altro, quindi un orario abbastanza tardo, per cui poi Gran Roma, c'è gente, ma non la calca che magari può esserci a Romest durante i saldi. Abitini rossi, ribadisco che il rosso quest'estate è tanto, ne ho visto veramente tanto. Da Mango avevo visto anche degli abiti animalier, che però qui, sto facendo vedere anche le scarpe, qui non ho visto, e non so dirvi se era il discorso dell'organizzazione, o se è un discorso che, essendo lo store più piccolino, magari non espongono tutto, però ce l'hanno magari nel magazzino, perché loro hanno anche comunque il magazzino, per cui se una persona dall'app chiede un determinato prodotto, credo che possa essere poi reperito. Così era anche in un altro store di Zara, che era piccolino, che poi hanno chiuso, hanno aperto questo a Gran Roma, quindi stesso discorso. Abito bianco, fresco, in lino, sempre perché mi avete richiesto di far vedere degli abiti bianchi in saldo, poi passo intervallati tra questi stand, ci sono anche gli accessori, questo è l'angolo delle cinte e dei cappelli, per chi ama i cappelli fatti anche a mano, tipo un cinetto. Altri abiti, questo è una chemisie, molto carino con la cinta, devo dire questo mi piace tantissimo, non ho guardato bene i tagli, però ho cercato di farvi vedere i prezzi, tutto intorno tra i 29 e i 39 euro, c'era comunque un buon saldo, devo dire, da Mango, dopo che ho acquistato il Trench, sono rimasta, non era tutto in saldo, così come fanno da Zara, però c'è una buona scontistica. Bello anche questo per fantasia, con questo verde intervallato, questi un po' scuri per quanto mi riguarda, però so che molte di voi amano il verde, non è proprio un verde militare, è un verde comunque scuro, anche quello dopo è sempre un colore scuro, però comunque ci sono persone che hanno una certa carnagione a cui queste tonalità donano senza meno. Giallo quello dopo, se riuscite a vedere questo è un po' plissettato, e monospalla, quindi carinissimo, veramente molto sensuale. Giallo, un giallo molto intenso questo, non mi piaceva tantissimo la fantasia, però devo dire che era carino comunque come modello, molto carino. Poi blu, e poi questo altro in fantasia, non mi ha colpito alcun abito in particolare in questa zona, però sono stata molto attratta dalle borse, questo è l'angolo borse, mi piaceva questa, carina, mi piace molto il cuoio con rafia, penso sì, adesso non so che tipo di materiale abbiano utilizzato, ce n'erano tantissime, anche cru, e poi vabbè in solide paglie intrecciate, le piccoline, le tracolline, questa è molto carina. Già mi era piaciuta a prezzo pieno, però ho detto, vabbè, nei borse ne ho tante, anche se di quel colore poi la sfrutti tanto, con un sandalo cuoio. Avendo presa quella di Zara, che vi ho mostrato ieri, ho detto, mi sono trattenuta, ecco, perché ho veramente acquistato moltissime cose, lo sapete, avete visto il Reel su Instagram. Per chi non fosse iscritto, vi rinnovo ovviamente l'invito all'iscrizione, vi lascio la mia pagina nell'infobox. Top jeans, tantissimi anche qui. Lo store ribadisco, non è grandissimo, quindi mi sono anche mossa abbastanza bene, però mi rendo anche conto della limitazione del fattore di trovare più prodotti e più taglie. Non so, c'erano, alcuni di questi store, vanno per categorie. A Romest trovi tanti jeans, qui magari ne scelgono qualche modello. Questi sono i shorts, ce ne erano tantissimi, anche rossi, gonne, gonne corte, shorts, tanti, ovviamente divisi sempre per categorie. Questi, quelli in jeans, anche questi erano in saldo, mi hanno colpito questi color verde, verde chiaro ovviamente, salvia, perché è un colore che mi piace particolarmente, comunque non visto, sempre andare alla ricerca di cose un po' più particolari, per quanto riguarda il colore. Cerco di mostrare quanto più possibile anche il cartellino, per farvi vedere la differenza di prezzo tra il prima e il dopo, e anche le scarpe, queste delle splendide slim back, molto molto carine. Qui invece gonne di jeans, quella bianca, so che molti di voi cercavano una gonna di jeans bianca, comunque in saldo, secondo me, il caso di acquistare, ecco, anche una gonna di jeans lunga, è proprio il periodo, il periodo di saldi per acquistare o rinnovare un pochino l'armadio, con certi pezzi, pezzi da sostituire, oppure da inserire, ma anche per usare un colore particolare e non spenderci un capitale, per chi magari indossa determinati colori solo in certe occasioni o in determinati periodi e non vuole spendere molto. Cioè, una mia collega dice sempre come vuoi spendere e così spendi. Qui mi stavo interessando del fatto, come ieri da Zara, se c'erano pantaloni provati con la patta aperta, a un certo punto io apro le scommesse e mi aspetto da voi su Instagram, su Direct, delle foto, se trovate i pantaloni da Zara o da Mango con la patta aperta. Domanda, perché se lo rimetti a posto non gli chiudi quella madedetta zip? Comunque, camicie, tante anche qui, non solo in questo stand, queste sono quelle più corte e smanicate. Ne ho vista una bellissima online ed era fatta a righe celeste e bianca e mi piaceva molto. Bianca così semplice, con le gondavità alte a ruota trovo che sia una combo perfetta. Questa ovviamente è la zona del non in saldo. Come al solito la New Collection per me ha una particolare attrattiva, io proprio vado in quella direzione. Se non guardo i pezzi a prezzo pieno non sono io. Bellissimo anche quest'abito e speravo tanto che fosse in saldo, ma i miei ragazze, come potete vedere adesso vi mostro il cartellino, prezzo pieno. Vabbè, non era tantissimo il prezzo e l'abito merita, anche se ne ho visti altri anche a fascia, sempre con la gonna morbida. Queste borse molto carine in due versioni di modello, mi ricorda molto Coccinelle, la Medium e la Small. Sono identiche, ma non per grandezza, per chi ama la piccolina e per chi ama una borsa un po' più capiente. Da questa parte invece pantaloni, tutta una nuova collezione ovviamente o quantomeno ho prezzo pieno. Scarpe, come se non ci fossero domani, intervallate anche da stand dove ci sono cose in saldo, quindi trovate anche scarpe in saldo, perché comunque mi aggiravo per cercare determinate cose che avevo visto sul sito e che erano andate sold out. Vabbè, le cose belle di Mango, subito, via. Neanche a dire un piccolo sconto e vanno via. Ho fatto appena il tempo a prendere quel trench. Ve lo devo far vedere. molto molto bello. Anche verde. Verde però, no, la mia taglia c'era però anche quello stava terminando. Evidentemente era il colore più ambito. Io avendo già comunque un trench verde militare che ho messo. Bella anche questa borsa in paglia con il nero questa volta e questa però credo fosse proprio a prezzo pieno. Tantissimi shorts, pantaloni. Mi piaceva molto. A me piace molto anche vedere come hanno sistemato. Mi piace questo. Ho fatto delle scarpe su questo stand che richiamano il pullover. Mi piace. La maglia, il top, quello che sia. Abiti rossi a fantasia. Così per esempio il rosso anche se è un abito non mi disturba perché è una fantasia. Cercavo tra l'altro queste scarpe ma c'era anche una mia amica e non abbiamo trovato il numero. Quelle se non erano in saldo col tacco piccolino quindi comode. Borsa in saldo anche qui quell'altra in cima non mi faceva impazzire. Cinte. A me le cinte di mango piacciono tantissimo. E poi le trovi anche colorate rossa a bordeaux. Bordeaux era molto bella mi sono pentita di non averla comprata. Se la trovo di nuovo della mia taglia io la compro perché il bordeaux è un colore che sto riscoprendo anche d'estate. Questa era la camicia che vi ho fatto vedere in un vecchio video però l'ho lasciata lì ragazzi perché ho veramente tante cose quindi anche tante camicie. Io adoro le camicie una cosa che proprio le guardo le riguardo però come taglia purtroppo devo dire che ricominciamo con il discorso delle taglie per me è un XXS e me la trovo che cadea meglio. Mi piaceva tanto questa borsa ma la mia collega amica me l'ha bocciata ha detto che sembra un portasigarette certo che il cellulare ho lasciato perdere perché lì il cellulare non c'entra poi ho un cellulare grande bello questi diabiti bello questo stand questa è una tuta bianca molto bella per una donna curvy è perfetta nonostante il bianco secondo me le cade molto bene tra l'altro è una L e comunque ci vuole una fisicità diversa per portare questo determinato capo belli questi abiti a fantasia lunghi freschi leggeri tessuti veramente belli devo dire la verità questo pure mi ha colpito tantissimo molto vivace con la bronzatura deve essere perfetto bello anche questa scollatura ampia davanti poi ce ne sono altri sul fucsia sul viola tanti veramente tanti abiti secondo me anche sul sito ce n'erano probabilmente molti di più credo che sia stato lo stand che è stato preso d'assalto proprio più d'assalto degli altri proprio perché attirava moltissimo l'attenzione dati colori vivaci rosso fucsia fantasia questo bello è tra l'altro contenuto come tessuto leggero ma contenuto come modello non troppo sfarzoso molto minimal anche questo mi era piaciuto tanto in questo rosso arancione corallo adesso dal vivo non mi ricordo perché dal video non riesco a capire bene sì forse un arancio questo è proprio rosso così come lo vedete plissè molto bello monospalla poi vabbè c'era quest'altro semplice easy per tutti i giorni a fantasia molti moltissimi in saldo devo controllare poi sul sito vedrò e magari facciamo una diretta mentre controlliamo i saldi anche quando praticamente si abbasseranno le percentuali carini vabbè qua mi ci sono sono fermata di più proprio perché ce n'erano tanti volevo ho cercato di mostrarli tutti questo ho fatto a camicia cercavo di mostrarli tutti però ragazzi a parte che questi stand sono più alti di me ogni volta sulle punte stavo con le scarpe basse quindi mi alzo sulle punte per cercare di afferrare i capi poi cerco anche di non riprendere le persone anche se l'orario era buono ma si avvicinavano per guardare ovvio e quindi dovevo stare attenta mi dovevo sbrigare non dovevo dar fastidio insomma cerco anche di girare dei video senza infastidire gli altri ovviamente quando si fa shopping è tutta un'esperienza emotiva bello bella anche questa di giacca mi piaceva tantissimo io ho tante sul celeste è blu ed ha i bottoni argento veniva 39 euro non ricordo il prezzo iniziale poi non vedo bene non ci vedo più col cartellino non vedo più queste invece giacche un po' più over quindi non l'ho neanche considerate di qua invece i blazer veri propri celeste rosso viola fucsia tanti verde bottiglia tutte le sfumature del verde il verde chiaro che piace a me non proprio salvia simile molto alla borsa di coccinelle che mi è stata regalata celadon green probabilmente quella è il nome del colore qui giacca un po' più invernali ad esempio questa sapete che ricerco sempre i pezzi invernali l'odi colori dico nei video perché secondo me è una cosa che facciamo un po' tutte ho visto nei negozi gente provarsi comunque giacche e cappotti qui non ce n'erano però magari se mi sposto come punto vendita come store è probabile che in quelli più grandi ci siano anche altri pezzi altre cose camice bluse più che altro bluse ci sono tornata sopra per farvi vedere le fantasie mi sono spostata perché dall'altra parte c'erano altre persone che stavano selezionando una serie di capi per andare poi probabilmente a provarli i camerini erano comunque c'era la fila la coda e non ho provato nulla vabbè che non c'era niente che aveva carpito la mia attenzione a parte la giacca però la giacca me la potevo provare anche fuori poi ho lasciato stare poi ecco mi avete chiesto video che una panoramica nel negozio perché comprendo che magari vado a provare dei capi che possono essere di mio interesse che possono star bene a me e non vi faccio vedere tutto invece in questo modo voi vi rendete conto anche di qualcosa che mostro sommariamente ma che può piacervi anche per colore e modello o che può star bene alla vostra fisicità questo mi piaceva tantissimo però la collega aveva fame e quindi siamo dovute andare via e lo volevo praticamente volevo prenderlo è probabile che io ci torno è un bel verde e poi c'erano diversi cardigan come questo nonostante un XS l'ho trovato un po' ampio probabilmente è uno di quelli un po' più morbidi carinissimo questo voglio di cardigan necru se no avalanghe nell'armadio quindi li faccio vedere ma li lascio lì perché se no sarebbe l'ennesimo acquisto non consapevole non intelligente cardigan anche questi li avevo di Zara se non erro uno di Mango a righe però so che vi piacciono magari qualcuno di voi non ha fatto in tempo quest'inverno ad acquistarle quindi li mostro tra l'altro vi faccio vedere un vestito che mi piaceva per modello per colore per fantasia vi faccio vedere anche le scarpe ma che ho dovuto rendere di Mango per la pesantezza è un tessuto che mi pungeva mi ero vestita mi stavo truccando per uscire me lo sono levato di dosso meno male che anche se avevo tolto il cartellino comunque ho potuto renderlo portando sia il capo che il cartellino pesante ragazzi non lo so forse sono io che non sopporto alcuni tessuti quando ero piccola la mia mamma non mi metteva mai nulla di lana perché all'epoca comunque non c'era la lana che non pungeva pungeva e basta per cui io stavo immobile e cominciavo a grettarmi da tutte le parti per cui mi è rimasta addosso questa cosa questo è l'abito di cui vi ho parlato e deduco che le altre fantasie siano dello stesso materiale per cui non mi azzardo neanche a tirarlo giù dallo stand perché sono rimasta terrorizzata l'altro giorno non scherzo però mi dava fastidio pungeva mi stavo truccando sono impazzita me lo sono tolto stavo veramente impazzendo e comunque torniamo alle scarpe che non ho trovato ragazze questo era l'ultimo video per oggi ma sicuramente ne farò altri quindi mettetemi un like e ci vediamo al prossimo shopping al prossimo saldo ciao ragazze